Il momento nel quale si parla moltissimo di cittadinanza, di dare alla cittadinanza italiana e qualcuno vorrebbe darla in base allo Ius Soli. Ius Soli che cos'è? Nasci in Italia, sei cittadino italiano. Noi siamo per lo Ius Sanguinis, sei discendente di cittadini italiani, sei italiano. Perché questo? Per un semplice motivo. La cittadinanza va meritata, la cittadinanza è una condivisione di un progetto di vita, la cittadinanza è la conoscenza della lingua italiana, la cittadinanza è la conoscenza identitaria dei territori, di quello che è l'Italia e l'italianità. Dare la cittadinanza a tutti coloro che nascono in Italia, a prescindere, significherebbe che molto probabilmente avremmo persone che magari poi continueranno ad essere italiani con un progetto di vita. Dall'altro c'è il rischio di avere magari dei cittadini che semplicemente fanno il giro del palo e tornano a casa loro con il passaporto italiano con tutti i benefici che ne conseguono. Questo non vuol dire essere poco aperti o poco disponibili o poco ospitali, ma vuol dire anche tutelare gli italiani da un lato e dall'altro tutti quegli stranieri che un vero progetto di vita in Italia ce l'hanno.